Sonia, benvenuta, che piacere! Antonella, un piacere mio davvero, tanto! Tu me sei solare! Grazie! Sei emozionata, va tutto bene? Molto emozionata! Va tutto bene, ma sono molto emozionata, ma questo è bello, no? Senti, ma io ho saputo una cosa di te, che hai detto no ai simply red. Sì, è vero. Ti sei mai pentita? No, no perché non sono cambiata. E questo è molto bello. Sono sempre io e forse se fossi rimasta con loro non avrei fatto quel popò di roba che è mio figlio. Questa è una cosa bellissima, però gli anni 90 sono stati un po' gli anni tuoi belli, eccetera. Sì, assolutamente. Poi la vita ti ha chiesto un po' il conto per certi versi. Guarda, io dico sempre che forse mio figlio mi è stato dato per sopportare poi meglio quello che mi sarebbe successo, perché in quattro anni la mia famiglia non c'è stata più. La mia mamma, mio papà un anno dopo e poi il padre di mio figlio. Però poi è ricominciato perché tu sei una donna fantastica. Sono una leonessa. E stasera, pensate, festeggia con noi in fondo 50 anni di musica. Sì, sì. Sei pronta? 50 anni, sono pronta e guarda, questa è proprio la ciliegina sulla torta, sai? Mi piace questa espressione. Non poteva essere meglio di così. Andiamo sul palco? Andiamo? Siamo pronte? Mamma mia. Da, via. Andiamo. Andiamo. E' tornato il quadernino, il quadernino rosso. Ritorna il libretto rosso di Loredana. Il libretto rosso? Guarda, tutte e quattro le edizioni, guarda. Siete pronti? Voi vi siete un po' emozionati? Un bel po'. Un bel po', eh? Insomma, abbiamo parlato tanto di te con la tua mamma. Sì, va, guardala. Un bel po' emozionati. Wow! Si sono già girate Arisa e Loredana, avete visto? E' un po' emozionati. Si spiega il snowy o snowy. Si ha un bello della mia ote. Io voglio ascoltare un altro bambino. E' un po' emozionati. 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 Grazie a tutti, grazie a tutti 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 Grazie a tutti